Nuovo giorno di lavoro per il Bitonto qui nel ritiro di Camerino, da poco è terminato l'allenamento al Livio Luzzi, sul terreno di giochi di Livio Luzzi, siamo in compagnia del centrocampista Matteo Montinaro. Matteo, come procede questo ritiro del Bitonto, come ti senti fisicamente? Il ritiro sta andando molto bene, abbiamo creato subito un gruppo importante, c'era già una buona base e gli altri sono aggregati immediatamente. Io mi sento bene, normalmente siamo un po' stanchi perché stiamo caricando un po' a livello fisico, però sono sicuro che tra poco saremo alla grande fisicamente. Matteo, uno dei confermati della scorsa stagione, è cambiato notevolmente anche il volto del centrocampo, dunque ora è lecito chiedere dove il mister Claudio De Luca dovrà poter sfruttare le tue qualità, le tue caratteristiche, in un centrocampo così ricco di volti nuovi, così ricco di giocatori importanti. Sì, siamo tanti e tutti molto forti, però per vincere le partite, per vincere i campionati c'è bisogno anche di questo. Il mister per ora mi sta provando come trequartista, uno dei trequartisti, o a sinistra o a centrali dietro la punta, però comunque dove ci sarà bisogno metterò a disposizione.